ed eccoci buonasera buonasera sessione odunnale di sicilia mater noi continuiamo il nostro lavoro di perlustrazione in territori ecco che lavorano sui libri sulla letteratura sulla sicilia nella sua magnifica complessità e niente oggi siamo molto contenti perché intanto siamo alla vigilia di una festa importante ecco per un attimo abbiamo avuto un momento di assenza eccoci qua è una di quelle di quelle feste dicevo ecco che hanno un significato simbolico altissimo antico che che affondano nel nel tempo e nella probabilmente nella storia di ognuno di noi della nostra infanzia questa festa dei morti di ogni santi e dei morti insomma assume un significato simbolico molto importante lo facciamo attraverso un ospite che ci ha consigliato e approfittiamo insomma per salutare Catena Fiorella che è stato recentemente nostra ospite e ci ha consigliato Anna Martano che è una gastronoma gastrosofa e una docente di enogastronomia un'esperta insomma di questo settore così importante così e così bello direi che racconta attraverso la storia della della tavola dei cibi dell'enogastronomia ovviamente da questa prospettiva una storia importante e con con già insomma si è sperimentata nella nella scrittura nel racconto di stasera lo facciamo con il suo nuovo libro la tavola e festa cibi rite ricette di sicilia per ecco volevo chiederti si chiama alieno editrice giusto e la alieno ali e no sì c'è questo gioco simpatico benissimo siamo sempre con mario che voglio salutare nostro amico e collaboratore che ci accompagna in questo viaggio e giusi la spada insomma fondatrice di di sicilia maria dialogherà proprio con Anna Martano sul tavolo la tavola che festa a te giusi grazie tanto grazie ringrazio nuovamente Anna Martano per aver accolto il nostro invito e come vettatori ringraziamo anche catena fiorello per averci proposto questo incontro perché il libro che noi di cui noi parliamo stasera è un libro veramente molto interessante non è un vero e proprio libro di ricette nel senso che contiene delle ricette della nostra tradizione siciliana ma è anche un viaggio che si fa proprio nelle vie della Sicilia da Palermo Catania Ragusa ed è un viaggio nelle tradizioni nei riti nella ritualità è stato un arricchimento per quanto mi riguarda perché Anna affronta senza ora volevo spollerare il libro perché vi invito a regalarlo per Natale visto che ormai ci si avvicina al Natale però affronta anche quelle che sono dei temi cari a Sicilia Mater perché alcune feste hanno un'origine molto antica che affondano cioè proprio si affonda nel mito addirittura quindi questo è qualcosa che lo lega molto e parliamo di Sicilia perché è dedicata alla Sicilia e parliamo anche di altri temi cari alla Sicilia Mater come quelli della memoria e della vita e della morte però questo lo vedremo poi nel corso della nostra chiacchierata io la prima domanda che volevo fare ad Anna che è al suo secondo libro dire di ricette è un po' improprio però ecco l'altro secondo volume perché il primo era appunto il diamante nel piatto anche lì ricette abbinate a decunti e questo nuovo libro quindi volevo chiederti come nasce l'età di questo secondo libro che quali sono le differenze rispetto al primo qual è stato il tuo intento ecco nella nello scrivere questo questo volume intanto buonasera a tutte e grazie davvero per me è un piacere un onore essere qui con voi il diamante nel piatto storia golosa della Sicilia in cento ricette e conti era una storia è una storia della Sicilia raccontata dal punto di vista del cibo infatti il libro sostanzialmente si divide in due parti una parte che appunto è un escursus storico dalla protostoria sino all'unità d'Italia ai primi del novecento e narrata dal punto di vista del cibo cosa che riserva eh tante curiosità interessanti e che mette in luce anche episodi della storia poco conosciuti o che fa come dire che evidenzia che evidenzia aspetti considerati minori ma non per questo meno importanti di eventi storici invece molto conosciuti accompagnati poi da cento ricette ognuna delle quali preceduta dal suo punto quindi quello ha avuto un taglio prettamente storico nella tavola e invece ho voluto raccontare la Sicilia ma eh che poi la Sicilia ma è in realtà è un discorso poi anche più generale sono siciliane le ricette e le ritualità ma non sono solo siciliani concetti da un punto di vista antropologico perché e ci sono delle parole chiave in questo libro e le parole chiave sono vita morte festa che sta appunto nel titolo natura e tempo e la parola tempo è molto importante perché io scrivo nel libro che la festa che ha una sua come dire una sua cadenza ciclica e che segna dei momenti di passaggio nella vita dell'uomo e nella vita della natura la festa nel momento in cui ce ne riappropriamo e ce ne riappropriamo nel suo più nel suo significato più autentico più profondo ci ci lega ecco ci ci riporta ai ritmi della terra dai quali ci siamo scollegati nel mondo contemporaneo ma questo riportare e riportarci al tempo della terra poi è eh quello che trasforma e questo secondo me è una cosa molto importante non dobbiamo attraverso la festa noi ritroviamo il tempo dell'anima il tempo dello spirito che ci stiamo perdendo e a questo proposito proprio si lega alla giornata almeno io questo discorso leggo alla giornata anche di oggi che è casuale questo incontro oggi di 31 però è proprio un momento di passaggio è un momento che nel tempo secondo me si è perso perché c'è ne abbiamo parlato anche un po' fuori onda di questo discorso nel senso che è un momento in cui si vede anche qui una divisione no fra chi è la festa degli santi chi è la festa una festa quasi satanica insomma anche se è un parola molto forte ma se noi ci riportiamo alle origini in realtà è un rito meraviglioso che unisce ecco quindi se tu magari ci parli di questo se approfondendo magari proprio questa festa di oggi visto che ci siamo proprio agli scoccioli che secondo me sta alla base di questa festa in particolare ma un po' di tutte le altre tutte sì perché sempre nella festa c'è questo concetto ricorrente di un ciclo che si chiude e di un ciclo che si apre ma particolarmente nella festa di ogni istante e nella commemorazione dei defunti e il concetto è fondamentalmente quello di esorcizzare la morte cioè l'uomo ha bisogno di esorcizzare la morte perché se l'uomo avesse pensato alle sue origini voglio dire che con la morte finiva tutto ci saremmo belli che stinti da milioni di anni io penso perché considera una cosa che le funzioni essenziali perché la vita continui che sono nutrizione e procreazione sono entrambe funzioni estremamente impegnative e faticose cioè noi oggi siamo pensati cioè siamo abituati al fatto che noi andiamo al supermercato e facciamo astise e manciamo un attimo non non è sempre funzionato in questo modo non funziona così tuttora in molte parti del mondo ci sono molte parti del mondo dove per dire c'è un posto in Africa credo nella foresta del Camerun o giù di lì dove si alzano di lì dove si alzano di notte stendono delle reti tra questi alberi della della foresta per catturare i pipistrelli fruggivori che poi vengono arrostiti uccinati e mangiati ma pensate quanto lavoro c'è quindi la sono vita procreazione sono sono attività impegnative se tu pensi che tutto finisca con la morte dice ma mia come fa fare allora esorcizzare la morte aveva significa avere la certezza che c'è un ciclo che ricomincia la natura ce lo dice in questo senso perché ogni istante è la commemorazione dei defunti perdonatemi in realtà se noi andiamo ad esempio nell'epoca dell'antica Roma si festeggiavano i pomonalia cioè i culti della dea pomona la dea dei raccolti perché proprio alla fine di ottobre perché con ottobre ci sono gli ultimi raccolti pensiamo alla vendemmia alla raccolta delle olive le melagrane cioè le mele cotogne cioè ci sono le zucche che ovviamente in epoca romana non c'era la zucca rossa o cucuzza baffa come vogliamo chiamarle in siciliano ma c'erano altri tipi di zucche che comunque venivano adoperate e comunque arrivavano a maturazione sul eh in questo periodo quindi l'ultimo raccosto era l'epoca dell'ultimo raccolto allora viene l'ultimo raccolto e io lo celebro perché celebrando l'ultimo raccolto svolgo un'azione come dire propiziatoria e benaugurante per i raccolti che verranno perché so che adesso la terra si addormenterà ma ci saranno altri raccolti ci saranno nuovi frutti che spunteranno quindi questo è come dire la sempre la chiusura del ciclo e l'apertura di un nuovo ciclo questo si innesta poi con i celti perché i celti sostanzialmente dividevano l'anno in due periodi Beltane e Samain con la fine di ottobre eravamo alla fine dell'estate alla fine di Beltane e cominciava Samain che era il periodo del lungo inverno e anche loro celebravano per lo stesso motivo ma poi avevano la convinzione che durante questa notte di passaggio tra la fine di Beltane quindi il 31 ottobre e il primo di novembre l'inizio di Samain si aprisse una sorta di ponte tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi e questo spiega attenzione la come dire la deriva horror definiamo la cosa nella festa di ogni istante cioè di Halloween e le storie del mistero le maschere da strega e il vampiro e cose di questo tipo questo tipo di ponte fu assorbito anche in epoca cristiana è trasformato in all allows if sera di tutti i santi perché questo è il significato di Halloween tutti i santi i santi che sono le anime dei trapassati che vengono celebrati è chiaro che poi questi questi culti si si intrecciano si sovrappongono peraltro la chiesa cristiana fa un'operazione intelligente di di marketing perché ogni istante che prima veniva celebrata a maggio la sposta proprio al primo novembre per sovrapporsi in modo perché è chiaro una nuova cultura che si innesta in in usi consolidati da da secoli non può avere come dire la pretesa di cancellarli perché quegli usi comunque appartengono alle persone allora se tu vuoi che il tuo nuovo uso possa essere accettato devi fare in modo che il tuo nuovo uso incorpori quello precedente e fare una trasformazione una sovrapposizione ed è quello che accade e accade con ogni istante e quindi poi per conseguenza il due novembre la celebrazione dei defunti che ha una valenza anche molto importante perché teniamo conto di quella che era la durata della vita media qualche secolo fa cioè mentre oggi è abbastanza come dire inusuale che i bambini non abbiano conosciuto i propri nonni un tempo era anche abbastanza frequente che i bambini non avessero mai conosciuto i propri nonni quindi la festività i morticetti diventavano anche uno strumento di costruzione di legami familiari tra i nuovi nati e quelli che non c'erano più che venivano conosciuti dalle nuove generazioni attraverso i morticetti attraverso il racconto familiare sicuramente ma questo discorso del dono dei morticetti era un discorso anche diciamo di creare un legame affettivo peraltro il dono del cibo anche questo è una grande differenziazione del cristianesimo rispetto alle altre culture rispetto alle altre religioni cioè nelle altre religioni c'è una costante che è quella del cibo che viene offerto in sacrificio alla divinità succede nelle varie forme di paganesimo succede nell'ebraismo ma poi arriva il dio dei cristiani e dice una cosa che è rivoluzionaria rispetto a tutta la religione precedente dice misericordia io voglio non sacrifici il dio dei cristiani non chiede lui sacrifici anzi fa al contrario è lui che si che offre se stesso attraverso il proprio figlio in sacrificio per la salvezza dell'uomo questo ribalta completamente il rapporto tra religione cibo e festa perché se prima la festa era io offro il cibo alla divinità adesso è io attraverso il cibo celebro la divinità che è un cambio di prospettiva non da poco e in questo cambio di prospettiva si innesta anche i doni dei morticetti che i morticetti portano ai bambini tanto è vero che la sera del 31 dicembre siccome i bambini in generale erano piuttosto come dire eccitati da questa aspettativa ah chi sa che cosa mi portano i morti allora per farli stare buoni e zitti a letto si diceva loro i motte venono e trattano le pedi questo questo è questo è e li nascondevano Cecilia li nascondevano anche ciao Cecilia allora tornando alle alle feste no perché poi leggendo il libro da lettrice ho rivissuto tante emozioni quando noi parliamo di memoria legato proprio a tante volte abbiamo detto la memoria legata all'amore no perché si ho visto proprio questo i ricordi di quando ero bambina c'è avuto la nostalgia sentivo i profumi e questo mi capita spesso quando si parla di cucina soprattutto di cucina tradizionale ecco perché comunque la cucina è qualcosa che fa proprio è insito nella nostra vita quindi volevo che tu affrontassi questo questa tematica perché molto bella ho avuto tanta nostalgia allo stesso tempo però tanta tristezza perché penso che le nuove generazioni penso a miei figli ma quando parlo dei miei figli penso alle nuove generazioni tanti si perdono questi questi ricordi non avranno più ricordo di queste tradizioni perché man mano si sta perdendo non so anche per dire fare il pane perché un elemento che ricorre spesso anche nel tuo libro quello del pane ma fare il pane e oggi è difficile trovare chi ti fa il pane con una volta nella classica maida con i a lievitare il forno tutta una serie di ritualità perché anche quella era ritualità quindi volevo che ci parlavi di questo pensa che quando si infornava il pane al momento in cui il pane veniva infornato si si faceva tre volte il segno della croce e si recitavano tre ave marie nel momento in cui si il pane veniva infornato affinché questo pane venisse buono perché il pane e l'alimento il principe poi il pane della festa è diverso perché il pane della festa il pane bianco perché il pane della tavola di tutti i giorni non era il pane bianco per un motivo ben preciso perché più la raffino la farina più scarto ciò e siccome la cultura dello scarto costa esatto dobbiamo usare tutto però per la festa c'era il pane bianco pane bianco o accompagnato anche dai panni arricchiti perché poi alla fine se andiamo a vedere tanti dolci delle nostre feste a cominciando dalla cultura di pasqua o anche che ti posso dire il nordico panettone che cos'è se non un pane arricchito e poi ci sono i pani di san giuseppe c'è tutta una cultura del pane che è meravigliosa il ed è una ritualità del pane della cucina legata alla festa legata alla famiglia che tu giù si dici mi sono venuti in mente tanti ricordi familiari sono dentro le quello che io ho scritto è chiaro che ci sono anche i miei di ricordi familiari perché per dire il fatto delle cuddure venerdì santo mia nonna preparava cuddure in quantità industriale e in tutte le forme più svariate perché c'erano quelle della famiglia così ognuno si aveva libertà di scegliersi la sua e poi c'erano tutte quelle che venivano regalate ad amici e a parenti ai vicini di casa venivano distribuite ed è una cosa bellissima e si facevano il venerdì santo donde il proverbio viene ritta da pasta che di venere si impasta quindi c'è questa questa cosa della questa ritualità è bellissima ma io ti è un patrimonio io l'ho scritto nel libro è un patrimonio che in realtà e se mi permettete queste queste due righe vorrei leggervele che l'uomo è ciò che mangia scriveva Feuerbach intendendo con ciò che il cibo è elemento culturale caratterizzante di ciascun popolo perdere questa identità significherebbe privare noi stessi e soprattutto le future generazioni di uno straordinario patrimonio immateriale un patrimonio che non appartiene esclusivamente ai siciliani ma al mondo intero al pari di ogni altro patrimonio culturale e identitario ogni uso ogni rituale ogni lingua è parte di un tesoro comune in cui il cibo diventa un ponte perché scambiarsi la tavola consente una più profonda conoscenza dell'altro conoscenza che diviene comprensione e fratellanza e non può più dirsi straniero colui con il quale hai condiviso il cibo questo era anna ti chiedo scusa perché questa era la frase che io volevo proprio leggere e perché mi ha fatto scusami che ti interrogo mi ha fatto in mente una cosa che una diciamo no almeno noi in sicilia lo diciamo spesso no quando qualcuno che frequenta casa nostra ci delude o ci sentiamo traditi in qualche modo diciamo questo mangiava tavola gommia nel senso proprio che la tavola è fratellanza e quindi continua ti chiedo scusa che ti interrotto per benvenuto in mente questo il dialogo è questo il dialogo è questo ma c'è anche quella Anna ti posso interrompere? certo ho seguito con estremo interesse tutto quello che hai detto perché è bellissimo è bellissimo è passato un gatto per caso proprio i giorni scorsi sono stato a Roma città ovviamente ormai completamente preda del turismo se non fosse così non potrebbero girare soldi non potrebbe perché è ovvio una città talmente bella che i turisti ormai se ne sono impadroniti e soprattutto per quanto riguarda il cibo diventa sempre più difficile per chi come me lo conosce il cibo andare a trovare i posti deputati dove mangi veramente del cibo non ti dico a chilometro zero ma comunque buono genuino e non cibo per turisti però ci ho detto questa è una premessa mi pare di aver capito che questo l'ho scoperto negli anni che per esempio quasi tutti i turisti soprattutto americani e non a casa dico americani perché parliamo di un paese giovane di un paese che non ha identità storica e non ha identità storica neanche a livello di cibo ma ha una serie di un'accozzaglia di cose se pensiamo che per loro il nostro piatto simbolo sono gli spaghetti dalla bolognese già abbiamo capito che abbiamo a che fare no? e io invece mi rendo conto che loro quando vengono in Italia e si scelgono bene i posti dove andare a mangiare perché ci sono anche gli americani corti che sanno leggere che sanno capire che sanno dove andare ma perché hanno anche i soldi io credo che non lo facciano solo per un fatto di gusto ma lo facciano perché sentono il desiderio di comunque di toccare con mano delle tradizioni, delle radici e di creare idealmente questo ponte culturale con una terra che rispetto alla loro Savasandir ha più anni di storia e ho visto americani alzarsi dalla tavola commossi ma non per quello che avevano mangiato ma per tutta la ritualità la liturgia che noi mettiamo nel cibo e servendo il cibo sei d'accordo su questa lettura? assolutamente sì e ti posso dire che è una cosa che ho anche vissuto di prima mano non solo con americani ma anche con con altri ma infatti io spesso e non me ne vogliano litigo con gli chef come amano farsi chiamare adesso mentre io preferisco chiamarli cuochi perché hanno c'è una sorta di mania della rivisitazione, rilaborazione, il cannolo scomposto, la cassata destrutturata, la norma fuori norma, la norma senza norma il camilleri ha scritto non so quanti romanzi di Montalbano, ha perso il conto, i suoi romanzi sono tradotti in ben 37 lingue del mondo e la RAI vende la fiction di Montalbano in 65 paesi considerato quanti siamo sulla faccia di questa terra consideriamo quali siamo quanti possiamo essere quelli che hanno accesso alle risorse tecnologiche ed economiche per comprare i libri o per vedersi, per avere gli strumenti, per vedersi la fiction di Montalbano ma insomma ce li vogliamo mettere che a occhi e croce ci saranno un 3 miliardi di persone al mondo che hanno visto queste cose quindi la caponadina di Adelina, la pasta ingasciata, l'arangino e via dicendo questi arrivano con questa immagine no? che costruiscono poi arrivano e noi ci presentiamo a caponadina destrutturata veicolando una cosa sbagliata perché loro quello vogliono trovare vogliono trovare quello di cui hanno letto quello che hanno visto e questo ed è questa la chiave vincente e non solo oggi si parla tanto di turismo esperienziale e a Messina c'è come dire un grande esperto del turismo esperienziale che è il professore Grasso che veramente sta facendo delle cose eccellenti vogliono non gli basta solo di assaggiarlo vogliono vedere come si fa vogliono mettere la mano in pasta vogliono imparare per dire a fare le busiate se sono a Trapani o a fare i peduni se sono a Messina o un'altra cosa insomma ma vogliono l'autenticità poi permettetemi un inciso in rapporto alle rivisitazioni ma allora i cuochi dovrebbero fare tutti la stessa cosa no un attimo la nonna paterna era la nonna cuoca la nonna materna è stata la nonna musicista quando io avevo sei anni mentre gli altri bambini imparavano il caffè della peppina mia nonna al pianoforte mi insegnava le aree delle operette e per dire il perché questa cosa della musica qualcuno mette in dubbio che Riccardo Muti sia un eccelso straordinario inarrivabile musicista perché non dirige le opere che compone lo stesso tante volte questa è una cosa che ho detto spesso in tante conferenze basta andare su youtube e scrivere scherzo di Chopin Ivo Pokorelic scherzo di Chopin Arturo Benedetti Michelangeli troverete lo stesso scherzo di Chopin interpretato dai due la partitura è la stessa per tutte e due però uno sente due cose deveste perché Arturo Benedetti Michelangeli è rigoroso asciutto essenziale nell'interpretazione Pokorelic è Pokorelic è uno che trasborda i suoi pianissimo sono proprio che manchi senti i suoi fortissimo sono proprio che è un'esplosione eppure la partitura è la stessa ecco in cucina è esattamente la stessa cosa cosa che fa la differenza la mano come in cucina guarda io in questo senso la penso come te perché sono un radicale cioè nel senso io ho vissuto molti anni a Roma e se ho portato qualcosa quando sono tornato da Roma qui ho portato almeno come esperienza personale ma come hobby il fatto di saper cucinare le quattro paste romane perché dopo tanti anni e dopo averle mangiate dappertutto e se tu vai a parlare con diversi cuochi chef monzù chiamiamoli come ci pare ognuno ti faccio un esempio su quella che è più non ti dico la cacette quella più francescana come pasta perché sono tre elementi più l'acqua di cottura ma già la carbonara è un po' più ecco io ho visto chef che per esempio l'ancuttiano con ciocchicce diceva vabbè ma è in modo mio ok con la cipolla no non è carbonara mi dispiace se la ricetta originale the original recipe come si dice si chiama ti dice che ci vogliono quattro cose delle buone uova del buon guanciale del buon pecorino e un'ottima pasta se tu ci metti altra roba non è più chiama la Giovanna chiama la Peppina ma non è carbonara non è più quella io per esempio mi capitò una volta di mangiare in un noto ristorante romano dei fiori di zucca destrutturati per cui il fiore da un lato un fondo di mozzarella e sopra tutto l'alice squagliata cioè era una cosa magari presentata bene ma era immangiabile perché io il fiore di zucca pastellato con quella roba lì lo prendo e me lo mangio così perché si mangia a quel modo il fiore di zucca è giusto sei d'accordo assolutamente sì l'autoreferenzialità di quest'ambiente e di quelli che oggi si chiamano chef ha portato a questo ha portato a a a falsare alcune situazioni ti faccio un esempio se vai o mai tu sai meglio di me che i ristoranti stellati non hanno più menù alla carta ma hanno quasi tutti il il percorso il percorso il percorso sì hanno i percorsi con dei nomi allucinanti noi hai 15 portate io il menù degustazione non mi viene la parola io ne ho provati negli anni qualcuno mi sono alzato da lì innanzitutto stravolto da questa continua arrivare di cibo ma senza aver mai avuto la possibilità distinguere i sapori cioè se io mangio un primo so che è un primo no? un piatto di pasta incaciata capisco che pasta è incaciata se mangio due fette di falso magro so che sono due fette di falso magro ma se queste cose mi arrivano in un percorso di 15 piatti con 10 vini io non ci ho capito più nulla cioè secondo me siamo andati oltre il discorso della cucina non so se sei d'accordo è diventata illuminata esperienza ma anche il tuo illuminato parete su sta cosa allora c'è troppa un po' troppa spettacolarizzazione però per contro ci sono quelli che stanno come dire ritornando perché ad esempio in tema di stellati a me è capitato di assaggiare e vi giuro mi sono uscite le lacrime cioè mi sono commossa per quanto era buono quel piatto era ad una rassegna gastronomica Cibo Nostrum un po' di anni fa era venuto Gennaro Esposito Locanda del Saracino Allora piatto c'erano tanti chef il piatto di Gennaro Esposito era una semplicissima scodellina de pasta rutta mescada cotta in un brodo di pesce e servita con un gambero uno sopra fine la ciotolina pronta non si può capire che cosa fosse veramente a me sono uscite le lacrime per quanto era buono era una ricetta come lui stesso ha dichiarato di sua nonna il brodo di pesce come lo faceva sua nonna e dove si cuoce come in tutti i brodi di questo mondo perché lo facciamo pure noi e si faceva in tutte le case tutta pasta un restauro in remasugli cosiddetti se rompevano e se mascavano poi il brodo di pesce una pasta e faciola o quello che era però si riutilizzavano in questo modo ma credetemi era un piatto di una semplicità incredibile ma allo stesso tempo di una di un gusto di una poesia di di una capacità evocativa l'effetto Madeleine straordinario ecco io scrivo io punti anche per questo perché si riporti alla memoria tutto questo che come ho scritto non appartiene solo ai siciliani appartiene al mondo intero perché pensate se nel mondo i siciliani si perdono il loro gli indiani si perdono il loro i trentini si perdono il loro gli inglesi che anche gli inglesi che se ne dica io ho scoperto avendo una figlia che vive in Gran Bretagna che ha un compagno british anche l'Inghilterra ha le sue specialità gastronomiche se ognuno rinuncia al suo alla fine che facciamo manciamo tutti queste cose non diventa un impaverimento collettivo così come a me piace andare a scoprire i sapori degli altri ma quelli autentici allo stesso modo se accolgo l'altro in Sicilia devo offrirgli il mio sapore autentico perché così poi io gli racconto del mio lui mi racconta del suo alla fine se prima sapiamo una cosa all'uno poi ne sapiamo due all'uno e abbiamo costruito quel famoso ponte e questo è il qualcosa che dobbiamo chi va Mario vado io no solo una cosa una cosa che dovremmo riscoprire perché proprio gli effetti della globalizzazione ci stanno portando a dimenticare questo quindi è importante riscoprire questa individualità nell'insieme poi mantenere l'individualità nell'insieme perché ormai siamo con i fast food il cibo industrializzato insomma cibo io lo definisco come altri cibo spazzatura perché non non sa di niente però è importante riscoprire e riscoprire anche come dicevi tu che la cucina è un'opera d'arte ma senza la spettacolarizzazione ma proprio nella creatività nel nel creare con poche cose un piatto straordinario vi voglio raccontare una cosa divertente e qualche anno fa ero in e sono stato un paio d'anni fa in Portogallo un giorno eravamo a Sintra sapete che il dolce tipico del Portogallo sono questi pastiche de nata o pastiche de l'en e però a Sintra li fanno in un altro modo non li fanno sono sempre pastiche però non sono farciti con la crema ma sono farciti con un incasto che è composto di due formaggi un formaggio che assomiglia un po' alla nostra tuma e un formaggio che assomiglia un po' alla nostra ricotta allora sono andata ad assaggiarli e mi sono fatta spiegare ovviamente la cannella era molto presente mi sono fatta spiegare dalla signora come li facessero ovviamente lei parlava in portoghese ho capito che non parlava l'inglese quindi ma ho capito che le veniva più facile comprendere il siciliano piuttosto che l'italiano per cui lei parlando in portoghese io parlando in siciliano e io le ho raccontato dello sfoglio di palizzi generosa che ha vato marintra è stata una cosa bellissima ma se ognuno perde la sua identità questi momenti ce li perdiamo assolutamente ma guarda li ho assaggiati ma mi sembravano tipo seatas il concetto era tipo di seatas che è un dolce però col formaggio dentro ho assaggiato pure quelli dolci che mi piacevano un po' di più ma c'era questa crema buonissima invece volevo fare un piccolo passo indietro io non so se sei d'accordo ma per esempio una cucina che adoro ma è a Roma convivendo a Roma ho avuto molto modo di frequentarla ma tre giorni fa ci sono stata a mangiare e la cucina kosher quella originale perché perché loro comunque potranno passare altri duemila secoli ma fanno sempre le stesse cose con il loro ricetto originale l'altra volta ho preso degli aliciotti con l'indivia che un piatto l'indivia è una un'erba amara cioè una è una è rituale con le alici una cosa buonissima e poi vabbè i carciofi fritti alla giudia loro non si sono mai come si dice avventurati a sperimentare a fare la cucina loro è quella perché tu sai che per cucinare delle regole molto rigide sì dove vado io di solito poi sono dei ristoranti che sono dove vanno quelli di religione ebraica e non i turisti perché ormai anche lì al ghetto i turisti è pieno di turisti vogliono mangiare carciofo alla giudia anche quando non è periodo di carciofi vabbè e sì e con loro per esempio sono rimasti dei puristi in questo senso cioè non hanno mai derogato a quello che sono mode e cose insomma sei d'accordo sul fatto che per continuare a tenere viva la tua identità il tuo radicamento in quella che è la tua storia perché se non c'è la storia di un paese passa assolutamente attraverso il cibo può passare attraverso la letteratura ma se perché il cibo con tutto quello che rappresenta con vitalità nutrimento non solo del corpo ma dell'anima cultura cunti attorno al cibo i pastori si raccontavano la giornata di lavoro voglio dire noi da ragazzini per noi il momento più bello era vedere la nonna che ci cucinava i riso con i fagioli della cucina il ragù o vedere o vedere la zia in campagna che il sabato mattina faceva il pane nel forno fuori voglio dire non è che appunto noi salviamo il nostro la nostra cultura conservando l'identità di quello che mettiamo in tavola certamente perché la cultura è anche cultura la cultura è la terra il nostro il concetto di territorio è un concetto che non è solo fisico è il genius loci è il rapporto con la terra ma è anche il rapporto con tutto quel patrimonio che è la stratificazione tu parlavi dell'indivia picchi scusano tafocaccia messina che ci mettiamo a scarola a scarola c'è molto della cucina kosher in realtà in Sicilia che poi chiaramente nel corso dei secoli si è evoluta si è non è strettamente kosher ovviamente perché si è contaminata però alle origini tutto quello che è l'uso degli alish l'uso degli alish l'uso degli alish le nostre scacce tutte queste cose ma persino la triglia allo scoglio in realtà sono tutte come dire derivazioni della cucina kosher però io tutto a proposito di identità e di feste che poi adesso ci siamo ci siamo focalizzati chiaramente su ogni istante e i defunti ma insomma io nel libro abbraccio tutte le festività principali da capodanno a natale ho volutamente escluso tutti i santi patrono e patronesse perché avrei dovuto scrivere la tre cani e forse manco ci bastava ho fatto l'eccezione di san giuseppe perché san giuseppe è assolutamente trasversale però per rimanere in tema dei morticetti ho una sorpresa da farvi vedere guardate qui che bella che cos'è che è un un questa è è un paladino siciliano fatto di zucchero allora ce l'avevo visto bene che era un paladino è un paladino e allora ci ho visto bene è il paladino questo è opera del maestro pasticcere Antonino Mineo di Trapani perché questa della pupacena è una tradizione più del palermitano insomma del trapanese della Sicilia occidentale la cui storia però e qui ritorniamo al a quello che dicevi tu Giuseppe del pane è legata ad un'usanza che era anche questa vedete cioè ci sono tante cose che poi le vai a vedere vedi che bella simbologia che hanno cioè per i morti che cosa si faceva si facevano i pani dei morti che venivano segnati con una croce si distribuivano ai poveri e ognuno che aveva ricevuto un pane di questi doveva recitare un rosario a suffraggio dell'anima di un defunto che apparteneva alla famiglia che gliel'aveva donato quel pane quindi ogni famiglia tante motta via e tante pane facia e tanti ne distribuiva perché fossero recitati questi rosari in memoria dell'anima dei propri cari con la pasta che avanzava si facevano per i bambini dei pani così che venivano dati come regalo ai bambini sempre per quel concetto che dicevamo prima che il pane bianco era l'eccezione non la regola a forma di pupiglio nel frattempo c'era già il concetto della scultura di zucchero perché attenzione la scultura di zucchero è una cosa che in epoca rinascimentale si afferma in maniera decisa cioè a Venezia durante il banchetto quando Venezia ospitò Enrico III di Francia fu allestito un banchetto con queste sculture di zucchero meravigliose che ornavano questo banchetto ma perché? perché lo zucchero era raro prezioso perché veniva dalle colonie e via dicendo quindi come dire ostentare la scultura di zucchero era ostentare ricchezza e potere lo zucchero diventa tra virgolette popolare quando durante il periodo napoleonico si mette appunto il processo di estrazione dello zucchero dalla barbabietola e allora lo zucchero si abbattono i costi ecco che allora quel pane di zucchero quel pane di pasta quel pupazzetto fatto di pane diventa invece la pupaccena fatta di zucchero che poi è un'opera ci vuole una maestria proprio vedi quando tu dici salvaguardare la cultura ma significa anche salvaguardare proprio l'abilità manuale nel sapere fare certe cose perché questo pupo di zucchero ormai sono pochissimi i maestri pasticceri che hanno che sono capaci e hanno il tempo e la voglia di farli ma richiede come materia prima in realtà ben poco perché in effetti cioè non è che ti serve chissà quanto zucchero Anna ti do ti do una notizia a Messina di maestri pasticceri ne sono rimasti ben pochi perché ormai sono vecchi se ne sono andati in pensione ma ce n'è uno che mantiene vive tutte le tradizioni e che anche lui è ospite della tavola ma lo spero ma lo spero guarda qua che ti faccio vedere nel capitolo di carnevale pignolata storica di carnevale opera del maestro Lillo Freni che mi ha concesso come no come no cioè questa foto per il libro perché Lillo sta facendo una grandissima opera di recupero ma ti posso dire che ad esempio c'è poi per carità non ho la pretesa non me ne vogliano gli altri non voglio suscitare ire di nessuno non conosco tutti i pasticceri messinesi però vi posso dire ad esempio c'è da lì c'è Fabrizio Lorenzo Fabrizio Guarnera pasticceria Guarnera che anche lui fa delle cose assolutamente strepitose laddove si è riuscito a passare il testimone e l'esperienza e la cultura del fare queste cose ancora vivono ma per esempio qui ci sono diverse pasticcerie diversi bar che ormai hanno personale straniero che giustamente perché magari c'è stato un ricambio generazionale tutti i discorsi che sappiamo e che i vecchi pasticceri sono andati via e magari non hanno lasciato e certe cose che una volta negli anni 50 e 60 trovavamo non ci sono più qui a Messina non trovi una pasticceria che fa non trovi una pasticceria che fa un viennese buono eppure una volta io mi ricordo nei tempi dell'università la pausa caffè rigorosamente col viennese oppure Anna oppure una pesca una pesca buona sono pochissimi no la pesca la fa Lillo guarda garantisco sulle pesche di Lillo perché l'ho mangiata no ma per dirti ma una volta le trovavi in tutte le pasticcerie queste cose ci sono delle cose ma sai qual è però un altro problema perché tu hai detto una cosa molto saggia hai detto laddove c'è stato il passaggio del testimone allora Lillo ha avuto il passaggio da suo padre Lorenzo Guarnera che ti ho citato prima ha avuto il passaggio da suo padre allora purtroppo molti pasticceri avevano una fissazione quella di tenere le ricette assolutamente segrete mucciate e nascoste sto quaderno uniru sto quaderno uniru ma magari era quaderno ce l'avremmo avute avevano fogli nel quaderno si è perso molto si è perso proprio per questa abitudine di non scrivere infatti un progetto che abbiamo proprio con Lillo ma anche con gli altri pasticceri dell'accademia del team Sicilia dell'Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia è proprio quello di raccogliere e recuperare tutto questo patrimonio in modo che non si perda perché se ognuna di cose si muccia poi finisci che arriveremo a un punto che ne sape fare più nudo no ma spiega anche scusa Anna tu che puoi spiegaci anche spiega anche che la pasticceria è una cosa difficilissima che se non stai attenta con le dosi fai un casino è chimica è vero non è solo allora non è la pasticceria non è solo un fatto di dosi è un fatto anche di gesti si si dosi gesti grambature a parte che la pasticceria come io dico sempre non te la perdona perché in cucina se ci sai fare fai un errore diciamo che nove volte su dieci riesci a recuperare pasticceria in pasticceria invece quando sbagli nove volte su dieci puoi stare tutto cosa e ricominci un'altra volta questo è questo che ti devo dire però non c'è solo c'è proprio quello che va trasmesso sono le ricette va trasmesso proprio la manualità cioè io ti ho portato l'esempio della pupaccena questo richiede una manualità incredibile per poterlo realizzare ma ti potrei parlare ad esempio a proposito dei pani di San Giuseppe dello squartucciato che è un pane meraviglioso che praticamente è composto di due strati in mezzo ai quali c'è una composta di finichi secchi poi lo strato superiore viene tutto intagliato con forbicine e lamette e fa un ricamo diventa praticamente una trina di pane in cui in trasparenza si vede questa composta di fichi secchi ci vuole una maestria incredibile per fare queste cose così come per fare tanti altri dolci allora proprio recuperare anche la sapienza delle mani è una cosa importante perché tornando al discorso degli americani dei turisti eccetera ecco pensiamo perché no arriva ora stiamo parlando di questo famoso recovery plan perché non immaginare luoghi dove tu accogli i turisti ma non solo i turisti e fai laboratori esperienze e dove colleghi il cibo all'agricoltura all'arte al territorio alla storia e attraverso il cibo racconti tutto questo ma nel fare nel toccare nel sentire io cerco di farlo scrivendo questo so fare e questo faccio poi se lo faccio bene o male non sta a me dirlo ma insomma io ci provo benissimo intanto Alessandra Ferligno dice che giustamente le sta vedendo e leggendo il libro vedrai poi volevo farti giusto per l'agricoltura poi lascio la parola giusti per le altre domande siamo a un'ora di trasmissione che è volata intanto ti faccio i sentimenti perché proprio in quest'ultima cosa che hai detto mi sembra urgente secondo me perché c'è stato c'è diciamo nella politica che però poi viene travasata in una sorta di mancata consapevolezza i percorsi enogastronomici tutte queste sagre eccetera per carità ci sono però ecco quanta ricchezza culturale c'è dietro un piatto una ricetta un dolce e quanta tradizione quanti simboli è giusto è giusto come dire hai fatto un lavoro secondo me importantissimo che è quello di dare corpo proprio alla cultura del cibo volevo chiederti anche chiaramente io immagino che sia intessuta anche questa storia di contaminazioni e delle nostre colonizzazioni cioè tutta la pluriforme storia delle dominazioni che la Sicilia ha avuto ecco anche un solo esempio perché immagino che il tuo libro sia ricco di tutto questo allora guarda ti posso dire che ad esempio nel capitolo di San Giuseppe c'è la pasta con le sarde scusate devo devo cambiare occhiali perché abbiamo differenti gradazioni a seconda di cosa allora la pasta con le sarde che tradizionalmente viene attribuita agli arabi agli invenzionati al cuoco del comandante eufemio che non aveva io ho recuperato noi altri siamo abituati ad esempio a vedere la pasta con le sarde come camurdica galiata no? o amurdica atturrata che dirsi voglia atturrata ebbene ebbene io ho recuperato invece la ricetta originale che riporta Giuseppe P3 dove non c'è proprio amurdica galiata o atturrata ma ci sono le mandorle tostate cioè quella gratinatura superiore veniva fatta con le mandorle e qui c'è questa stratificazione che poi se tu pensi anche un piatto come la pasta con le sarde ci sono anche anche qui gli che dici tu oppure se andiamo a prendere nel nel capitolo di Pasqua troviamo tutta una serie di ricette di capretto e di agnello ma capretto e agnello sono e sono cibo rituale simbolico per tutte le tre grandi religioni monoteiste monoteiste certo quindi questi echi ci sono però parallelamente ad esempio tornando a San Giuseppe un piatto che si fa per le famose tavolate di San Giuseppe è un gattore sabdi che è i cacoccioli quindi ancora il pesce azzurro unito con i carciofi ma c'è anche lo sformato di carciofi che però è questo di derivazione francese perché in pratica è una sorta di soufflé perché è prevista la besciamella ma che cosa ci dice evidentemente è un piatto che nasce in epoca borbonica dopo che sono arrivati dalla Francia i cuochi francesi scappati dalla rivoluzione sono stati accolti dalle famiglie nobili siciliane quindi siamo nella cucina cosiddetta dei monsù perché poi va detta anche una cosa che se proprio vogliamo essere puristi è anche improprio parlare di cucina siciliana ma dovremmo parlare di cucine siciliane perché c'è quella aristocratica la baronale de Vescovile quella dei conventi quella di campagna quella di marina quella popolare c'è quella de Montu quella che deriva diciamo di derivazione invece medievale cioè se andiamo a vedere bene poi c'è ci sono tante è come se fosse un grande fiume ma nel quale confluiscono tanti tanti affluenti che ognuno però ha delle caratteristiche ben precise certo mi pare di capire che urge che urge per chi ama il cibo comprare il libro di Anna assolutamente come diceva giustamente Giussi regalarlo per Natale perché deve essere un gran bel regalo lo fa ecco bravo facciamo vedere la tavola è festa bene no ma poi la fotografia mi fa impazzire Anna sembra che ti mangio tutta cosa tu la risata è una risata come dire ma se tu guardi guarda che bene che c'è una grande simbologia su questa tavola eh certo non sarà casuale spiegacela Anna perché se tu vedi ci sono intanto ci sono un po' dolci di tutte le festività perché ci sono le stupi di San Giuseppe eh che sono appunto di San Giuseppe ci sono i biscotti regina dei morti eh ma c'è la cassata di di Pasqua il buccellato di Natale eh i cassatelli di Pasqua c'è la pecora favorita i cannoli di carnevale e davanti in primo piano potete distinguere la cubaita e l'aranciata di Modica però vedete che c'è anche la pigna eh messa davanti e sullo fondo invece il il fico d'India eh la pigna come simbolo di auguri e di prosperità il quel piccolo fico d'India messo là dietro invece eh simboleggia un'ideale eh continuità con il mio precedente il il diamante del piatto sulla sulla cui copertina regna questo il fico d'India il fico d'India che poi questo piatto è un piatto bellissimo opera di un artista eh ceramista e mia amica Marina Ligama che è un una grande artista della ceramica quindi la copertina è stata e poi c'è questo pane in copertina la frutta martorana che avete visto cioè nella copertina è stata eh ed è stato molto bravo il fotografo Emanuele Leonetti e lo voglio ringraziare perché abbiamo fatto un bellino una bellissima sessione di di shooting così come permettetemi di in questa occasione di ringraziare pubblicamente il presidente avvocato Silvano Larosa e la segretaria dottoressa Deborah Barraco di Villa Reiman perché hanno concesso l'uso dei locali di Villa Reiman per lo shooting fotografico per la copertina del libro Villa Reiman è un luogo di incanto io vi aspetto a a Siracusa e vi porterò a visitare Villa Reiman perché è un luogo veramente meraviglioso ma sì ma dopo la visita a Villa Reiman andiamo a mangiare però esatto venite a mangiare a me casa perché esatto ci cucini tu allora io penso io penso che io penso che con Anna ci dovremmo dare un appuntamento da qui a qualche a qualche po' di mesi per rivederci perché lei ci deve questa cosa del cibo non può finire qua io penso non necessariamente perché è presente in altro libro ma dovremo perché il cibo voglio dire qui Sicilia Madre se lo può dire Salvo e Giussi che sono quelli che l'hanno inventata cioè noi non ci occupiamo solo di romanzi saggi di letteratura declinata in tutti i vari generi ma parliamo di cultura in senso veramente molto ampio per cui stasera abbiamo parlato di cultura del cibo che è ipercultura è supercultura ma faremo tante altre belle cose non spoileriamo niente ma abbiamo begli assi nella manica per cui per esempio avrei voluto farti se ci fosse stato tempo una bella domanda ma te la farò dopo su tutto tutto il mondo dello street food sulle origini dello street food e come ti vedi ma guarda come fa io amo parla sicuramente pure no no tu ami lo street food secondo me non lo street food perché a te ti piace di cose patatine no invece Anna la prossima volta che verrai dobbiamo parlare veramente di street food e di tante altre belle cose giusto salutiamo Francesca grazie ciao Francesca ciao a tutti ciao a tutti anche se si se ne d'accordo se ne d'accordo assolutamente io volevo aiutere con invece con una con la fine diciamo della prefazione di Catena Fiorello perché una cosa che mi è piaciuta molto e che che mi auro contro il cuore perché penso che è la finalità anche di questa puntata lei dice dentro a ogni pietanza scivolano esperienze vissute da altri che continueremo a perpetuare con l'ostinazione di chi ha a cuore i tempi degli avi il passato a tavola diventa futuro non dimenticatelo e pregate i vostri figli di fare lo stesso solo così niente sarà dimenticato ed è questo l'intento che vogliamo mettersi insomma in questa puntata e se Anna ci farà il piacere anche in qualcun'altra perché è importante parlare di cucina perché come diceva pure Mario il cibo non è solo nutrimento del corpo ma anche dell'anima quindi alla prossima sicurissimo questa cosa che dice Catena Fiorello di non dimenticare sì grazie 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 a tutti una buona serata ciao 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 amore ciao